concluso il calciomercato pre partita di atalanta monza ma prima la nostra sigla ciao a tutti si ricomincia col campionato finalmente è finita la farsa tra virgolette del calciomercato nel senso che eravamo veramente stufi quest'anno ci sono stati diversi movimenti tanti in uscita ma anche qualcosa in entrata campionato che secondo me in questo frangente non ha guadagnato tantissimo abbiamo trovato qualche forte giocatore ma ormai quasi direi respinto dalle forze dell'europa come ad esempio un forte Pulisic ho visto anche ieri sera del Milan arriva da noi invece un Colasinac che è praticamente svincolato e che abbiamo preso ma comunque nell'Atalanta ci sta benissimo parliamo comunque di Atalanta-Monza del pre partita e per partita sarà difficile questo pre partita perché sia Gasperini che Palladino non hanno fatto nessuna conferenza stampa quindi vedremo cosa vorranno schierare entrambi gli allenatori per questa partita partita particolare perché si gioca al Ghewi Stadium l'ultima partita del Ghewi Stadium come sapete era stata Atalanta-Monza e ripartiamo con la stessa squadra al Ghewi Stadium per il nuovo campionato la scorsa volta è andata abbastanza bene anzi abbiamo dilagato dopo la fine ma sarà sicuramente un'altra storia un Monza che ha sfiorato addirittura di dover andare con il piacere di andare alle Coppe Europee ha quasi sfiorato la possibilità solo all'ultima giornata appunto con l'Atalanta eccetera e anche la penultima ha perso la possibilità di poter lottare con la Fiorentina sicuramente farebbe più figura dei Viola che hanno faticato talmente tanto a doverti qualificare ai gironi di Conference League all'ottantasettesimo con un rigore di un mano tra l'altro che sì ci poteva stare ma è un po' come il rigore di ieri tra Roma e Milan che abbiamo visto secondo me il rigore che ci stava ma comunque come diceva Luca Marelli a cui do molta stima da arbitro che comunque il movimento del portiere della Roma era un po' particolarmente... cercava di andare a prendere la palla e quindi non si era accorto sicuramente del giocatore che invece gli è andato addosso al piede piede che comunque non era congruo sui movimenti e andando a vedere al VAR perlomeno rispetto a Bologna Juventus in cui non sono neanche andati a vederlo alla fine poteva anche starci il rigore questo per la partita di ieri, una Milan che ha vinto quindi va a 9 punti e si allontana un po' dagli altri ma siamo solo all'inizio del campionato dicevamo di Atalanta-Monza delle probabili informazioni quindi visto il campionato non avremo più zappata come titolare cominciamo appunto dal portiere che sarà sicuramente confermato Musso vedremo Carnesecchi ormai rimasto come secondo portiere giustamente spero comunque che si alternino un po' soprattutto non tanto per l'Atalanta che magari Musso fa vedere tante belle cose anche se ogni tanto va un po' in palla ma poi Carnesecchi più che altro è giovane e dovrebbe giocare e quindi speriamo che l'Atalanta lo faccia giocare io ho una buona fiducia le ultime uscite non è stato un granché ma è giusto che si faccia giocare anche questo ragazzo dalle prospettive abbastanza buone difesa che sicuramente come vi dicevo prima con l'Asinac sarà confermato insieme a Gettoloi non penso che sia ancora nella possibilità di giocare quindi saranno confermati gli altri due difensori che sono Scalvini speriamo tra parentesi che faccia una buona partita come la faceva l'anno scorso quest'anno abbiamo un pochettino di paura diciamo le ultime due partite del campionato non ha soddisfatto pienamente Dim City sicuramente nell'altra fascia vedremo nelle fasce più comunemente partirà Zappacosta come punto di partenza anche se credo che già Olm sia in panchina e dall'altra fascia credo che ci mettono ancora Ruggeri e diano fiducia ancora a Ruggeri che comunque col Sassuolo ha fatto una bella partita col Frosinone invece devo dire ha fatto una... a me non mi è piaciuto davanti confermatissimo il nostro centrocampo olandese con Miners e Deron con Miners che è stato teatro di mercato ad agosto ma comunque Atalanta ha voluto sicuramente non privarsi di questo settore importante sempre resistente e il quale proprio secondo me Atalanta fa una bella differenza non dico il 50% ma però ma una bella percentuale di differenza per questa squadra che è differentemente che sia la difesa attacco comunque il nostro centrocampo è intoccabile e secondo me anche uno dei più forti di Serie A sarò anche di parte per quanto riguarda il vado davanti ovviamente Don Sinto Cic da Pata la punta centrale sarà a meno di cose strane Scamacca e vedremo la scelta invece per quanto riguarda il ruolo di supporto alla punta centrale se metteranno Lucman che magari viene un po' meno preso in considerazione visto il rellore di Frosinone però io metterei dentro Lucman prima oppure addirittura far partire di Chetelare come titolare manca comunque un ruolo che vediamo un po' cosa deciderà Gasperini che è quello appunto di Pasalic che la scorsa volta era preso da Ederson questo non sono sicuro che metta uno o l'altro quindi vedremo all'ultimo chi deciderà di mettere Panchina va vedo che va a Toloi quindi dovrebbe star bene Adopo che ha fatto una buonissima partita quando è entrato col Sassuolo Olma che è il nuovo giocatore Bakkar non è ancora bene il nome e ovviamente anche il nostro Muriel che è pronto a entrare negli ultimi minuti come ha sempre fatto garanzia appunto di secondo me Muriel se si mette un po' in posizione dicono anche di posizione si tolga un po' di pancetta può ancora dare abbastanza alla nostra squadra sempre entrando negli ultimi 20 minuti come mi ricordo comunque ha fatto spesso ma anche quando c'erano i nostri i nostri Gosens e Gomez e Ilicic entrava sempre alla fine e ribadiva con i suoi gol la vittoria della nostra grande Atalanta per quanto riguarda la nostra Monza leggiamoli praticamente perché io seguo un po' il calcio ma non vado a seguire tutte le partite ho visto quella di ieri appunto perché era venerdì sera sono riuscito a vederla quella tra Roma e Milan anche perché è una bella partita anche se praticamente dominata dal Milan al di là di quello appunto Di Gregorio in porta come difensori Izzo, Mari e Caldirola vi dico che sto leggendo appunto poi Birindelli Pessina che è convocato ecco saranno convocati insieme a Scalvini Pessina e per quanto riguarda questa partita i due convocati nella nazionale di Spalletti sono questi due poi Gagliardini che arriva dall'Inter Curia Colpani che sta facendo benissimo il vecchio giocatore dell'Atalanta vecchio cioè giovane giocatore ma che era appunto dell'Atalanta Caprari Motta e Motta Motta davanti quindi vedremo questo Monza che vedremo come giocherà noi dobbiamo fare la nostra partita vincere per forza perché appunto stanno già scappando al di là che non è la nostra ambizione non credo dopo questo calciomercato che sia nostra ambizione poter arrivare addirittura allo scudetto cosa che pensavo ad agosto che sembrava la squadra che si era mossa meglio sul calciomercato e quindi però bisogna sempre stare dietro alle prime per poter poi puntare all'Europa sperando anche addirittura che sia che sia una Champions League qua sta scappando via sta scappando via le due milanesi e quindi Milan che ha già nove punti vediamo il Napoli stasera che giocherà con la Lazio la Lazio col coltello tra i denti perché probabilmente deve fare per forza punti altrimenti rimane a meno nove addirittura dal Milan partire da un così grossa penalizzazione tra virgolette penalizzazione perché sembra partire con nove punti in meno è decisamente poi più difficile recuperare il tutto al di là di quello devo sempre ribadire che sono le prime tre partite quindi non è detto che tutto possa cambiare quindi ma tantissimo noi facciamo la nostra partita vediamo il Gaby Stadium stasera ore otte e mezza un augurio a tutti quelli che sono allo stadio noi faremo ancora la nostra la nostra live reaction dallo studio stavolta lo faremo sempre perché non sarà allo stadio non sono riuscito neanche a prendere che mi sono dimenticato purtroppo per lavoro non sono riuscito a ricordarmi di prendere anche l'abbonamento per l'Europa League speriamo quando ci siano la vendita libera di riuscire a trovare magari qualche biglietto per poter andare a vedere almeno lo sporting lo Stumgraze l'altra non lo so perché vabbè sono così affascinante però lo sporting mi piacerebbe andare a vederlo allo stadio vi ricordo posso dire con certezza vedo gli ultimi video vi ricordo di mettere il mi piace importantissimo perché sembra appunto negli ultimi video noi poi noi youtuber diciamo quelli che hanno che seguono il loro video vedono quante visualizzazioni ci sono eccetera come vanno appunto ci sono varie varie statistiche e appunto quando ci sono più mi piace le visualizzazioni diventano diventano di più quindi è fondamentale importantissimo ricordatevi di mettere questo mi piace sembra che per per farlo vedere intanto non è che sono queste grandi visualizzazioni quindi vabbè è solo per fare vedere il video anche ad altra gente che scorre velocemente su youtube e l'allogaritmo di youtube se non hai il mi piace non li mette nelle posizioni per cui almeno il video possa essere visto e fa piacere anche a me avere magari anche dei confronti eccetera e poi ovviamente per chi non lo ha fatto di iscriversi per arrivare a un tot di iscrizione soprattutto ai mille che ci consentono di fare delle live delle cose un po' diverse rispetto adesso che sono tra l'altro discreti e vi ringrazio chi si è iscritto al canale niente vedremo allora stasera speriamo di fare una bella partita e ovviamente anche di portarci a casa i tre punti sono fondamentali soprattutto per noi per noi tifosi anche come si dice anche senza giocare stra bene ma purtroppo conta sempre tre punti e conta anche il gol che a volte una traversa un palo o un tiro bellissimo che va per due centimetri non te lo consentono e magari vai anche a perdere le partite ma questo è il calcio è il bello del nostro calcio un saluto a tutti una buon sabato e forza sempre Atalanta ciao a tutti